Di nuovo buongiorno e un grande benvenuto a Corrado Passora. Ci spiace ma per i tardi questa sarà 15 minuti e non un mezz'ora di intervista come programmato. Allora me ne vado. Eh, anche io. È un peccato perché avere il dottor Passora qui per noi è un piacere. Perché tutti sanno chi è nel mondo bancario, da banca intesa al governo e adesso ha una nuova avventura. Io vorrei capire in un momento, cominciamo così perché lei ha avuto molto coraggio in questo periodo e ha fatto una decisione che mi incuriosisce molto, vorrei capire la logica, la strategia e anche il business plan. Perché Corrado Passora è un momento in cui gli sprezzano a 300, il sistema bancario è indebolito, ci sono tante difficoltà per l'economia, ha raccolto 600 milioni di euro, ha lanciato una nuova iniziativa, una nuova banca. Vorrei capire tutta la storia. Prego, cosa ha fatto? Chi le ha fatto fare questo e qual è la logica, dottor Passora? È una start-up, oggettivamente è una start-up che parte abbastanza grossina perché ha avuto subito la fiducia di molti investitori, quasi tutti internazionali. E questo mettiamolo da parte come acquisito, non sta scritto da nessuna parte che non ci sia interesse da parte degli investitori istituzionali internazionali per progetti italiani. Chiaro l'ho fatto in gennaio, però quando c'è stata la business combination, cioè quando una SPAC deve confermare i soldi che ha chiesto ai suoi investitori, era agosto, quindi eravamo già nel pieno del turbine. Quindi questo come italiani ce lo portiamo a casa e non ci mettiamo un po' in quel mood del tanto ormai non si può. No, si può. Perché una nuova banca? Uno diceva, c'è bisogno di una nuova banca? C'è bisogno di una nuova banca per due ragioni. Primo perché c'è un bisogno di mercato, certamente non soddisfatto, che è quello delle aziende medio-piccole, medie, che potrebbero fare di più ma non hanno supporto, non trovano supporto. E queste si dividono a loro volta in due categorie, quelle che sono performing in termini bancari, cioè non hanno problemi di incaglio, però non hanno ancora la solidità, il bilancio, la forza, l'immagine per chiedere e ricevere soldi per fare cose grandi. Poi esiste la categoria delle sempre medio-piccole, medie imprese che sono in difficoltà, ma all'interno di questo c'è una categoria di aziende che può essere rivalutato, rilanciato, messo a posto, che può tornare a performing. Poi esiste una terza categoria, che è quella delle aziende che sono andate definitivamente male, ma dove c'è da salvare ancora qualcosa. Quindi stiamo parlando di tre classi di credito, di investimento, come volete voi, enormi, perché tutti insieme stiamo parlando di 700-800 miliardi di stock oggi, che oggi è mal o non sufficientemente servito. Quindi il bisogno c'è di una banca che si specializza in quello. Che si specializza, si può dire, dal distressed assets alle aziende... Nel credito difficile, nell'andare a scoprire potenziali non espressi. E parliamo di società che hanno 20 o 30 milioni di euro, di fatto 800 milioni... L'un per l'altro da 20 a 300, però poi ci sono sempre le eccezioni... Medium sized, non piccolissimo. La vera ragione di farla come start-up è che, come sapete tutti, quindi non dico nulla di nuovo a nessuno di voi, il sistema, il settore bancario, come molti altri, si sta completamente ridisegnando, per delle ragioni oggettive. Le tecnologie digitali cambiano il meccanismo di funzionamento. L'entrata di nuovi operatori da altri settori, telecomunicazioni, tech, eccetera, fanno entrare operatori con forze forti che mettono in crisi tradizionali. La regolazione rende la vita molto più complicata per le banche tradizionali e la quarta ragione, certamente la politica monetaria in questi ultimi anni ha schiacciato i margini. Quindi i modelli di banca tradizionale rischiano di non essere sostenibili. Una banca che nasce da zero, senza legacy, molto tecnologica, molto data centric, ma soprattutto con le competenze, perché alla fine non sostituisci cose non funzionanti con macchine. Puoi introdurre tecnologie che ti danno informazioni, che ti semplificano i canali, che ti li rendono diretti, ma per fare il credito difficile è un insieme di competenze industriali. I nostri settoristi sono dirigenti d'azienda che vengono dai vari settori e portano la conoscenza e la capacità di selezionare imprese che potrebbero andar meglio. Quindi competenza, tecnologia, sistema di business ovviamente molto meno costoso, perché se le banche tradizionali hanno 70-80% di costi in ca noi avremo meno di 30, specializzato in un settore grande che ha grande bisogno ed è difficile, questo giustifica un progetto e la raccolta dei soldi che abbiamo fatto. Qualche numero? Cioè avete raccolto quindi 600 milioni? Vogliamo fare 7 miliardi di credito e investimenti, essere inutile dal 2020, dal secondo anno, cioè l'anno prossimo, il primo anno, dal 2020, fare un utile consistente sopra i 250 milioni dal 2023, stare sempre molto basso rischio, quindi core tier one, indici patrimoniali molto alti, indici di liquidità molto alti e quindi è una bella start up. Ma ci sono filiali, c'è un retail banking anche, avete raccolto già depositi anche? I depositi si raccolgono attraverso una banca diretta molto efficiente, molto semplice che sarà pronta dal maggio dell'anno prossimo, per adesso utilizziamo il sistema di banca interprovinciale che è una piccola banca che abbiamo comprato per avere la licenza, cioè per accelerare il tutto, quindi abbiamo raccolto i soldi, abbiamo trovato la piccola banca, l'abbiamo comprata, abbiamo avuto le autorizzazioni, business combination in pieno casino italiano confermato, assunta una squadra di persone formidabili, Andrea Klamer, Enrico Fagioli, Marco Panella, Claudio Nordio, insomma stiamo parlando di una squadra di persone notevolissima nel settore che vogliamo affrontare e adesso siamo già operativi, abbiamo già comprato parecchie centinaia di milioni di posizioni di stress, abbiamo una bella fila di aziende con anche nomi rilevanti che vorrebbero fare di più e non hanno per ora trovato le risorse per farlo e quindi è partita l'avventura. E il mercato volantile, la situazione macroeconomica, quanti problemi o opportunità crea per le vostre iniziative? Crea opportunità, crea problemi? Andiamo controcorrente un po'. Andiamo controcorrente però siamo cittadini italiani e quindi se l'Italia andasse male siamo i primi a dolercene. È chiaro che una situazione di questo tipo allarga il mercato delle aziende che hanno bisogno di un aiuto specialistico, di un aiuto un po' più coraggioso di quello tradizionale, delle banche tradizionali. Ecco, mettiamola così. E c'è un aspetto tecnologico anche perché qui parlavamo anche in questo evento di FinTech e anche delle innovazioni tecnologiche legate alla finanza? Sì sicuro perché se vuoi costruire una banca che ha un terzo dei costi la devi fare e disegnare diversamente ma non è tanto quello l'effetto positivo delle tecnologie. E qui vengo al CFO che per noi, come in tutte le aziende, ma per noi è veramente un ruolo chiave. Anzi, io intorno al CFO, nella mia banca, ho messo tutte le attività centrali. Cioè tutto ciò che non è nelle divisioni commerciali e tutto ciò che non è nella gestione rischi che in banca deve essere tenuto separato, ma tutto il resto, personale, acquisti, ecco, è tutto nella funzione forte di un CFO forte. Ma volevo dire un'altra cosa, nel fare credito difficile la disponibilità di dati interni ma soprattutto esterni è fondamentale e questo tipo di dati non li metti insieme se non hai della strumentazione che un tempo non c'era e che oggi c'è. E quindi tutto ciò che è data analytics, tutto ciò che è machine learning, eccetera, serve per fare meglio il credito o per seguirlo, ma non finisce lì e qui arriva il rapporto con i CFO. Noi vorremmo, con le aziende che seguiremo, con le aziende che già stiamo seguendo, fornire a queste aziende tutto ciò che abbiamo noi. Parliamo presuntuosamente di digital CFO, ma non per sostituirci ai CFO delle aziende, ma per dire, guarda che tutto quello sul settore, sull'ambiente, sui collegamenti, sui concorrenti che insieme metteremo sul tavolo per poter fare credito complicato con te, è a tua disposizione. Tu sarai collegato, se vorrai, con noi. La PSD2, che come sapete è la direttiva che permette di consolidare i dati delle imprese prendendo da tutti i conti che hanno con le varie banche, permette all'azienda di sapere di più, a noi di poter dare di più e seguire meglio il credito, ma insieme da immaginare il lavoro, crescita, investimenti, acquisizioni, fusioni che senza di quei dati non avremmo. Quindi l'essere data centric non è una buzzword, non è una parola tanto per dire, è proprio modello di banca diverso, banca diretta, banca che integra fintech. Là in fondo c'è una super fintech che si chiama Credimi, che noi abbiamo integrato nella nostra offerta proprio perché avere un sistema data centrico e moderno vuol proprio dire mettere insieme anche le migliori fintech del settore. Vuol dire valutare con più coraggio il credito e vuol dire dare alle aziende informazioni che loro da sole non potrebbero mai avere. Posso fare qualche domanda sull'economia, la macroeconomia e il sistema bancario, il tipo del sistema bancario in generale, secondo lei, quali sono i rischi che corre? È un problema che voi nella vostra nuova banca non avrete già comprato di BTP, quindi nessuna svalutazione? Parliamo del sistema bancario perché è importante. Allora, negli ultimi dieci anni, e sono tutte cose che sapete però, magari metterle in fila aiuta. Negli ultimi dieci anni noi non abbiamo passato come sistema bancario una crisi, ne abbiamo passate tre. 2008-2009 era la crisi degli asset tossici, l'Italia ne è uscito molto meglio degli altri paesi, non abbiamo avuto né fallimenti né nazionalizzazioni né contributi per salvataggi perché le banche italiane erano concentrati non in asset finanziari ma in asset di credito. Poi la recessione è durata molto più del previsto e questo ha portato alla crisi degli asset commerciali, degli asset di credito, le sofferenze, gli incagli, le perdite su crediti, le perdite su patrimonio e questo ci ha investito fortissimamente. 300 miliardi di attivi in difficoltà, perdite dell'altro mondo, necessità di aumenti di capitale. Oggi, tra gli aumenti di capitale fatti e il dimezzamento degli attivi di credito difficili, l'equilibrio è stato sostanzialmente riportato. Terza, che non è stata una crisi sistemica, ma è stata la somma di tante crisi singole, sono stata la dozzina di banche che sono saltate in aria per incompetenza o per delinquenza, perché le due cose si sono mischiate e con costo non basso, ma sicuramente più basso di quello che è costato in altri paesi, siamo usciti anche da quella dozzina di crisi. Quindi, è importante perché quando anche all'estero ti dicono ma è finita la crisi delle banche italiane, allora, innanzitutto sono tre e le abbiamo passate. Adesso c'è la quarta, che è ancora prima di quello che dice Alan Friedman, la quarta è quella che dicevo, cambiano, cambia il paradigma. Il modello tradizionale, media banca, che fa tutto in maniera tradizionale, tradizionale, finito, non è sostenibile e quindi nasceranno dei nuovi giocatori, tipo Illimiti. Ah, by the way, Illimiti non è senza limiti. Posso interrompere? È la prima volta che hai detto il nome della banca, Sillo. Come si chiama? Si chiama Illimiti. Cioè noi abbiamo fatto la SPAX, abbiamo raccolto i soldi, abbiamo comprato la banca interprovinciale, questi due si mettono insieme e si chiameranno Illimiti. Illimiti può essere o un concetto presuntuoso, ma non è, senza limiti, o un concetto da bravo ragazzo che dire andiamo oltre i limiti e ovviamente è questa seconda e non la prima. Quindi questo è il significato di Illimiti. Per cui le varie Illimiti che nasceranno, quindi banche con un paradigma di funzionamento diverso, saranno secondo me alcune di loro tra i vincitori del prossimo giro e creeranno un bel valore per i loro azionisti. È chiaro, l'ho fatta lunga ma era necessario, che l'andamento della nostra economia, dei nostri tassi, della nostra percezione come Paese, attraverso quei 400 miliardi quasi di titoli di Stato che le banche possiedono, può avere un effetto molto, molto, molto serio. Perché se dovesse crescere ulteriormente lo spread, se dovessero quindi svalutarsi quei portafogli, se dovessero essere portati a perdita, quindi a riduzione di patrimonio, a montari di miliardi importanti, beh, questo vuol dire alla fine minore credito all'economia, effetto recessivo sulla crescita con guai importanti. Quindi, a noi non spetta altro a augurare successo con Illimiti, Il Limiti è una parola inventata una sera, adesso non voglio entrare nei particolari perché sono quasi privati, ma come facciamo a dire che vogliamo andare oltre i limiti? E la risposta è stata il Limiti, abbiamo controllato, c'era soltanto una crema per la pelle in Francia che si chiamava il Limiti, quindi potevamo prendercelo come nome, l'abbiamo registrato il giorno dopo e da combinazione di SPAC e di banca interprovinciale sta per nascere il Limiti. Ultima domanda, in questa nuova banca i banchieri sono più gentili e più attenti ai clienti? Che era il norme nel sistema bancario dove non sono sempre così disposti a sorridere al cliente? Sarete più simpatici o duri? E lo stesso come tutti? Domanda del cavolo. Domanda del cavolo. Ma comunque... Ma guarda, domanda del cavolo, ma sai una cosa, se ti chiedi a mille imprenditori italiani come rapporto con la banca non sono tutti felici? No, 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 domanda non del cavolo. Ok, grazie. Anche se... Hai tirato il cavolo. Non tutte le banche sono arcigne, cattive, insopportabili. Anche in Tesa, se parlo sotto la sua leadership, sicuramente non era un esempio di questo. C'è un esempio chiaro, fulminante. Più cuore, un po' più cuore, più insieme, più insieme. Cioè se io ti presto, mentre le altre banche non ti vogliono prestare, o ti compro il tuo credito, che è la stessa cosa, e metto nuova finanza, anche se tu sei un UTP, un unlikely to pay, un incaglio, beh, il tipo di rapporto che ci deve essere è diverso da un rapporto formale esterno, come in tanti casi c'è stato. Perché io veramente mi metto a rischio con te, mi aspetto un rapporto di trasparenza e di conoscenza reciproca molto più profonda, e se guadagniamo, guadagniamo tutti e due. Uno dei claim, degli slogan che useremo sarà, diamoci del noi. Ed è questo il concetto, cioè non è uno è l'altro, uno è il fornitore, l'altro è il cliente. A fare operazioni difficili come quelle che stiamo facendo abbiamo in mente, o vinciamo tutti e due o perdiamo tutti e due. Credo di aver capito, più risk sharing, più profit sharing, questa è l'idea. Esatto. Allora, auguri a Banca Illimiti, grazie molto per essere con noi oggi. Grado passera, signori.